Strette, surrecite e festeggiamenti nelle scuole. L'indicazione è arrivata dal presidente Michele Emiliano al direttore dell'ufficio scolastico regionale Giuseppe Silipo. La circolazione del virus infatti è in aumento con i contagi che crescono ad un ritmo del 30% rispetto alla settimana precedente in Puglia. Tutte le fasce d'età sono ugualmente interessate ma i valori più alti si registrano nelle classi di età pediatrica, ha spiegato Emiliano nella nota. A fronte di un tasso regionale di nuovi positivi di 87 casi per 100.000 si registra un valore pari a 153 casi per 100.000 tra i bambini d'età compresa tra i 3 e i 5 anni, 164 casi per 100.000 nella fascia 11-13 anni con una crescita di 222 casi per 100.000 nella fascia 6-10 anni, un valore 2,5 volte più alto del resto della popolazione. Nell'ultima settimana, aggiunto il governatore, si contano 721 nuovi casi positivi tra i bambini tra i 3 e gli 11 anni, il 21% in più di tutti i contagi rilevati nel periodo. Solo nell'area metropolitana di Bari, infatti, nell'ultima settimana sono ben 53 le classi per le quali è stato necessario adottare il provvedimento di quarantena nei 311 istituti di ogni ordine e grado monitorati dal Team Covid Scuole dell'Epidemic Intelligence Center della ASL. I casi registrati fra il 13 e il 19 dicembre sono stati 204, 57 in più rispetto ai 147 risalenti ai 7 giorni precedenti. 182 riguardano studenti e 22 operatori scolastici. Nelle scuole primarie sono 79 i casi riscontrati, 50 nelle scuole secondarie di primo grado, 38 nelle scuole dell'infanzia e infine 37 nelle scuole secondarie di secondo grado. Il numero più elevato di infezioni è stato rintracciato nella scuola primaria e media per un totale complessivo di 129 casi, per lo più riferibili alla popolazione pediatrica che ha avuto accesso alla vaccinazione da pochi giorni. Il Presidente della Regione, ricordando anche la diffusione della variante Omicron, ha ricordato a tutti il mantenimento e rafforzamento delle misure di prevenzione e protezione, a cominciare dal distanziamento fisico, dall'uso della mascherina anche all'aperto, alla ventilazione dei locali, evitando il più possibile situazioni di aggregazione con persone non conviventi.